Ok, Cattolica Eraclea Online, una persona che ci ha chiesto da tempo di poter fare un commento su quello che sono gli spettacoli qui a Minoa Eraclea. Prego, che ne pensa? Molto bello veramente, dai, molto bello. La gente che vengono qua sono tutte meravigliose. Non solo questo, e poi abbiamo un sogno, che è Eraclea Minoa, è veramente un sogno. Girarsi intorno qua a vedere Eraclea Minoa, che proprio è bellissimo, è bellissimo. Quindi abbiamo gente al di là, gente proprio pubblicizzata, gente veramente al di là. Quindi c'è un signore nostro, che è qua, un signore che ha un collega proprio qua, che è un programmatore. Saluto mio figlio, eh? Tanti saluti mio figlio, eh? Ciao Angelo, ciao papà, ciao, ciao.